Musica Questo appuntamento con l'informazione dalle Marche. Oggi per la nostra regione è stata una giornata particolarmente importante con l'arrivo di Papa Francesco a Loreto. E durante il volo in elicottero che l'ha condotto da Roma a Loreto, Papa Francesco ha trovato il modo anche di far sentire la sua presenza e la sua vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto nelle zone interne delle Marche. Alle 8.45 l'elicottero con a bordo il Pontefice si è abbassato sulla cittadina di Amandola e ha sorvolato a bassissima quota il campo sportivo dove si erano radunati centinaia di residenti e gli alunni delle scuole che sventulavano bandierine bianche e gialle, i colori del Vaticano. Ma proprio nella città mariana c'è stata una grandissima partecipazione e tanto affetto per il Santo Padre accorto da migliaia di persone. Vediamo il servizio. Papa Francesco ha celebrato la messa all'interno della Santa Casa di Loreto che la tradizione vuole essere la casa di Nazareth. Si tratta di un evento che non avveniva più da 162 anni. L'ultimo a celebrarvi la messa era stato Pio IX nel 1857. Il Pontefice, al termine della messa, ha firmato l'esortazione post-sinodale dedicata ai giovani. Ha vergato la sua sigla sul documento appoggiato sull'attare dinanzi all'immagine della Madonna Nera, venerata da milioni di pellegrini. Il Papa, sempre all'interno della casa che la tradizione vuole essere quella di Nazareth, ha poi consegnato il documento che sarà pubblicato nei prossimi giorni all'Arcivescovo delegato di Loreto, Monsignor Fabio Dalcini. Quindi si è diretto all'incontro con gli ammalati nella Basilica e poi a quello con la comunità dei Cappuccini all'interno della Sagrestia. Nel suo discorso, rivolto ai fedeli davanti al santuario della Santa Casa, Papa Francesco ha detto che, nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, assume un'importanza e una missione essenziali. Nella sua visita alla città mariana, il Papa ha anche annunciato che il centro Giovanni Paolo II sarà rilanciato e diventerà un centro vocazionale dedicato ai giovani, al servizio di tutta la Chiesa italiana. Rientriamo in studio con la cronaca. È morto nella notte l'uomo di 38 anni, di Mosciano Sant'Angelo, rimasto ferito ieri nel grame incidente avvenuto lungo il raccordato stradale a Scolimare. Il giovane era in sella ad una moto che viaggiava in direzione San Benedetto, quando all'altezza dell'uscita di Monsampolo del Tronto è piombata su un'auto che aveva rallentato in prossimità di un cantiere. Soccorso e trasferito in elia ambulanza all'ospedale di Torretti di Ancona è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Ferita gravemente anche la moglie che era insieme a lui, la donna non sarebbe comunque in pericolo di vita. E c'è stato un violento scontro questa mattina intorno alle 12.15 lungo la strada provinciale 361 all'altezza di Santa Maria in Selva di Treia. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia una 500 e una lancia Y sono entrate in collisione. I due conducenti sono rimasti entrambi feriti. Per uno dei due, la persona al volante della 500, si è reso necessario il trasferimento in elia ambulanza a Torrette. Le sue condizioni sono gravi. Meno preoccupanti invece le condizioni dell'altro ferito sul posto oltre la polizia, il 118 e i vigili del fuoco. E c'è stato un colpo da circa 80 mila euro all'ufficio di Poste Italiane in via Scataglini ad Ancona. Se ne sono accorti stamani i dipendenti e non è ancora chiaro se il furto sia stato messo a segno la scorsa notte o nella notte tra sabato e domenica. I ladri si sono introdotti nel capannone dove si trovano gli uffici postali, in una zona dove non ci sono abitazioni e in un immobile che confina con un parcheggio e con la ferrovia. E' stato inaugurato a Casterra in Mondo il nuovo centro intercomunale del riuso realizzato in località Ele adiacente al centro di raccolta comunale. Vediamo il servizio realizzato da Barbara Olmai. Al centro si possono portare oggetti o per elevare bene di consumo ancora in buono stato e funzionanti che possono essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie. Il centro del riuso intercomunale di Casterra in Mondo è stato realizzato grazie alla Regione Marche, all'Alta numero 3, all'Unione Montana del Potenza, Esino Musone, al Cosmari e ai comuni di Casterra in Mondo e Camerino. Al nuovo centro del riuso intercomunale potranno conferire o ritirare oggetti in buono stato i cittadini residenti nei comuni di Apiro, Camerino, Castellarremondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Galliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro e Treia. Giuseppe Giampaoli, direttore del Cosmari, dunque nasce questo nuovo centro del riuso, una realtà al servizio del territorio? Sì, questa è una realtà proprio del territorio perché tra l'altro è intercomunale, si arriverà più comuni, quindi più cittadini di questo comprensorio, della comunità dell'Unione Montana di San Severino potranno venire qua. Il territorio è il completamento del centro di raccolta, confluiscono tutti i materiali che i cittadini tendono a disfarsi, tra questi ci sono sicuramente, c'erano fino ad oggi prodotti che sono ancora in ottimo stato, riutilizzabili, ecco questa è la prosecuzione di quello, un materiale, un'apprezzatura, un giocattolo, quello che noi tendiamo a buttare via ma che ancora in ottimo stato può servire a qualcun altro viene dato al centro del riuso per essere poi messo a disposizione di chi ha bisogno. Assessore Angelo Sciapichetti, dunque questa nuova inaugurazione va a favore dell'ambiente? Beh assolutamente sì, cresce questa coscienza del rispetto dell'ambiente e delle cose importanti che i cittadini devono fare per il rispetto dell'ambiente. Quando parliamo di economia circolare dobbiamo fare in modo che non sia solo un bel titolo per un bel dibattito ma sia il comportamento concreto dei cittadini che giorno dopo giorno devono adoperarsi per lasciare ai figli e ai nipoti un mondo diverso da quello che noi magari abbiamo lasciato fino ad oggi e quindi bisogna fare gesti concreti. Le amministrazioni comunali qui del territorio si sono messe tutte insieme per fare questo bellissimo centro che servirà da quei prossimi anni per i cittadini per dare la possibilità di appunto riutilizzare, riciclare e separare le cose che magari a casa in gomma non potremmo giottare via e questo è molto importante e devono capirlo soprattutto i ragazzi. Ancora cronaca, accoltellamento nella notte di sabato nei pressi alla discoteca ad onoma di Civitanova Marche uno degli addetti alla sicurezza, si tratta di un 28enne di Tolentino per una profonda ferita all'addome l'uomo è stato operato all'ospedale di Civitanova e non è in pericolo di vita ad aggredirlo è stato un 28enne residente a Pescara che si trovava nel locale per una festa di addio al celibato è stato denunciato per lesioni aggravate. Offida è uno dei borghi più belli d'Italia, ora si candida a diventare il borgo più economico per le aziende l'amministrazione comunale ha deciso di non far pagare le imposte comunali per tre anni a chi deciderà di assumere a tempo indeterminato i cittadini residenti le aziende che assumono un residente avranno lo sconto del 20% sulle imposte Tari compresa lo sconto sale al 50% se si assumono 5 residenti fino ad arrivare all'esenzione totale se si assumono 10 residenti con Fabiancona e Lardini Filottrano Volley che proprio ieri ha festeggiato la salvezza nel massimo campionato insieme per una partnership che rafforza il territorio e la sua crescita economica con Fabiancona e Lardini Volley Filottrano hanno siglato un accordo di partnership finalizzato alla realizzazione di momenti di formazione, condivisione e promozione in una serata conviviale ai sette colli sono stati invitati i soci dell'associazione che rappresenta la piccola e media industria privata del territorio e lo staff tecnico dirigenziale della società di volley compresa la squadra sentiamo il presidente di Confapiancona Michele Mencarelli il gioco di squadra e il raggiungimento degli obiettivi sono veramente delle metafore che secondo me prese nel modo giusto e prese a campione possono veramente dare quello stimolo in più a noi imprenditori per superare le sfide che ogni giorno poi il mercato ci sottopone quindi sport e imprenditoria a braccetto possono fare veramente da stimolo per superare tutte quelle sfide che ogni giorno noi imprenditori abbiamo siamo davvero soddisfatti di avviare questa collaborazione con la Confapiancona ha detto il presidente onorario della Lardini Volli Giovanni Morresi perché ci permette di farci conoscere in maniera più profonda e diretta da chi nel territorio è l'attore principale della crescita ma diciamo soprattutto per condividere in maniera più larga possibile il nostro progetto e la nostra realtà credo molto nel valore del territorio e credo molto che se una storia pur piccola come la nostra viene condivisa in maniera più larga possibile può divenire realmente una bella e grande storia quindi l'obiettivo che abbiamo inteso e di questo ringrazio anche Confapi ovviamente Michele, il presidente Mencarelli insomma la cosa vera è che attraverso queste associazioni stiamo cercando appunto di entrare nel territorio per far sì che venga condivisa in maniera più larga possibile la storia della Pallavolo Filotrano e della Lardini Pallavolo Filotrano Apriamo la pagina sportiva di oggi con il basket situazione sempre difficile in casa Vuel e Pesaro dopo la sconfitta di sabato a Bologna i bianco-rossi sono stati affiancati al penultimo posto da Reggio Emilia che è andata a vincere a Pistoia un risultato che non dispiace affatto alla compagine di coach Boniciolli visto il vantaggio negli scontri diretti nei confronti dei Toscani in A2-WKO per Termo Forgia Iesi ed XL Extra Light Montegranaro entrambe scoffitte in casa rispettivamente da Ravenna e Verona la compagine di Pancotto scivola a terzo posto in classifica considerando la doppia sconfitta subita contro Eviso cercherà ora il riscatto domenica a Piacenza telecronaca stasera dalle 20.10 sul canale 11 di TVRS per l'Aurora saranno decisivi in chiave salvezza gli scontri diretti con Cagliari e Cento da affrontare però tra le mura amiche nella palla a volo dolce sconfitta per la Lardini battuta al Palabaldinelli da Firenze ma che può festeggiare la salvezza vista la contemporanea sconfitta di Chieri con il Club Italia sentiamo al nostro microfono la capitana Ilaria Garzaro Grande capitano dicono ancora i tifosi perché la partita è finita con una sconfitta però c'è stato un grande pubblico che vi ha spenti all'inizio alla fine avete trovato un ottimo avversario e poi quella notizia della matematica salvezza in una stagione piuttosto complicata e quindi immagino che la gioia sia doppia Sì, parto dalla partita buonissima prestazione del Bisonte ha giocato fino alla fine spingendo peccato perché noi abbiamo comunque dimostrato in alcuni frangenti no in alcuni, in molti frangenti secondo me una buona pallavolo un bel gioco di non mollare e dispiace la fine lasciare il Palabaldinelli così perché potevamo andare al tie break non dico vincere 3-0-3-1 perché comunque merito c'è dall'altra parte c'è una formazione forte che va a fare i playoff quindi voglio dire non sono gli ultimi con tutto rispetto anche per chi è ultimo a me ci mancherebbe però io personalmente speravo di portare a casa un punto per concederci da questo pubblico nel migliore dei modi non è stato così, è arrivata comunque la notizia della vittoria del Club Italia quindi va bene va bene fino a un certo punto però va bene dai Da capitano cosa dici di questa squadra? Da capitano non posso che essere orgogliosa e pensare che comunque nel bene o nel male io ho avuto le compagnie più forti del mondo di fianco a me da capitano ma anche da compagna voglio dire dico queste cose quando sono allenatrici nei campestivi lo dico anche adesso Telecronaca come di consueto stasera dalle 22.10 canale 11 di TVRS ed è terminata la regular season di Superlega con la facile e prevedibile vittoria della Lube 3-0 in casa sul Vibo Valencia grande spazio da parte delle due squadre alle seconde linee visto il destino già segnato per entrambi i biancorossi affronteranno Verona nei quarti finale playoff gara 1 domenica prossima Civitanova in a due passi falsi fatali per Golden Plast a Potenza Picena Bidex e Grotta Zolina che perdono 3-0 e 3-1 a Lago Negro e Cantù abbandonando definitivamente ogni possibilità di agganciare il quarto posto in classifica giocheranno i play out come d'altronde la Mengishus Macerata che conferma comunque il suo ottimo momento espugnando per 3-1 il campo della capolista del girone bianco Mondovì ora per la compagine di dipinto ci sarà un turno di riposo vediamo le previsioni meteo per martedì 26 marzo da Moplan Arredamenti a Castelplanio continuano le promozioni e gli sconti una visita è d'obbligo per chi lo showroom è completamente rinnovato linee, rapporti, materiali, colori, si respira il nuovo, la bellezza, la modernità della casa di oggi anche su misura del tuo spazio varie possibilità di pagamento Moplan Arredamenti a Castelplanio viene sempre incontro perché da sempre è dalla tua parte Bentornati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it Previsioni per martedì 26 marzo Un vortice ciclonico di origine polare collocato nei pressi della Sardegna condiziona il tempo su parte del nostro paese provocando piogge e anche nevicate a bassa quota Al centro diffusa instabilità sui settori peninsulari con cielo a tratti molto nuvoloso coperto con precipitazioni frequente nevose, acquate basse Le piogge bagneranno anche la Sardegna centro-settentrionale Neve sugli appennini al di sopra dei 600-1500 metri I venti soffieranno di bora sul mare Adriatico a rotazione ciclonica altrove Diamo infine uno sguardo alle temperature previste I valori notturni saranno compresi tra 1 e 12 gradi un po' su tutte le nostre regioni Durante il giorno prevediamo invece fino a 15 gradi al nord fino a 16 al centro e punte di 22 gradi al sud Ieri si è corso il 59esimo Gran Premio San Giuseppe di Monte Cassiano Vediamo il servizio realizzato in collaborazione con Umberto Martinelli Ciclismo popolare dai grandi numeri e dalla grande umanità Questa è la due giorni di Monte Cassiano oltre ad essere ormai scontatamente appuntamento tecnico, agonistico e mediatico dalla elevatissima valenza per under 23 elite e giovani professionisti continental Non fossero il passato remoto ed il passato prossimo ad attestarlo sarebbe l'edizione 2019 che predilige un tema Il rinvio del piatto forte al doppio finale in un contesto peraltro di ricche e raffinata offerta per palati raffinatamente colti Sui saliscendi della terra maceratese delle armonie ciclistiche il primo atto inscenato è quello della cronometro Trofeo Tris Stampi Inedita prova sull'inedito ed impegnativo saliscendi tecnico di 13 chilometri Parte penultimo e vince il siciliano Paolo Baccio che si aggiudica la prova per 7 secondi alla media di 39.86 Il 21enne cronomen del Lombardo Tim Colpa con ora al meglio il ruolo assegnatogli dall'organizzatore Veloclub Monte Cassiano del neopresidente Enrico Vissani Insieme a Baccio, già tricolore ed azzurro della specialità salgono sul podio Michele Corradini dell'Umbro Forte Braccio a lungo in testa ed il gettonatissimo colombiano Augusto Einer Rubio Reques Quarto il serbo Stojnic, quinto Luca Taskin, primo marchigiano La 48 ore si completa con il 59esimo Gran Premio San Giuseppe sulla distanza ondulata di 164 chilometri e 700 metri al via sono 173 corridori La corsa è presto veloce e ricca di spunti ma la verità agonistica viene svelata nella seconda e più dura parte La prova si accende con l'attacco della pattuglia guidata dal campione di casa il marcatissimo già tricolore ed azzurro Filippo Rocchetti Il tentativo viene bocciato subito dopo ed in contropiede al chilometro 140 attaccano in 11 che diventano 16 Gioca la carta del finisher Leonardo Tortomasi siciliano di nascita e toscano di adozione in forza alla polisportiva Tripe Tetolo che schizza via con potente e generoso tempismo in odore d'arrivo Il fuggitivo appare imprendibile negli ultimi 300 metri Il rettilino finale lo vede largamente in testa I segugi si avvicinano micidialmente gli mangiano metri su metri fino a mordergli la coda Il trentino Daniel Smarzaro da Borgo Valzugana piazza il colpo di Reni e brucia Tortomasi che alza comunque le braccia al cielo Media del vincitore 42-928 Terzo è Michael Belleri della Viris Vigevano Termina ai piedi del podio Gregorio Ferri, Zalf, Euromobile, Desire Fior che centra però l'obiettivo della combinata montecassianese innalzando il trofeo della due giorni Approfondimenti in giovedì ciclismo TVRS canale 11 delle 22.30 Venerdì sulle strade TVRS Marche canale 11 alle 20.15 Ancora una notizia prima di chiudere La San Benedettese ha esonerato ieri Giorgio Roselli dopo la pesante sconfitta subita dalla squadra Rosso-Blu a Trieste per 4-0 La società orientata a richiamare Giuseppe Magi frettolosamente esonerato dopo appena quattro giornate di campionato D'altronde il tecnico pesarese è ancora sotto contratto con la Samb ed appare la soluzione al momento ottimale Come noto invece Lascoli dopo l'incredibile Capitombolo di sabato 7-0 a Lecce è il ritiro per preparare la gara con il Benevento in programma sabato alle 15 allo Stadio del Duca È davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia L'augurio di un buon proseguimento Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!